Allora, taratura H34, 3006, 30 metri, si regola prima la luce e si guarda dove tira. Andiamo a vedere il bersaglio. Basso a sinistra. Agendo nella parte superiore, anche con i tappi, direttamente con i suoi tappi, dove c'è scritto, come vedete, up e right, che si possano essere anche intercambiati, si va a tirare su. Io mi aiuto guardando il punto rosso. E mandando il colpo verso destra. Riproviamo. Il bersaglio sarà quello alto a destra. Il bersaglio sarà quello alto a destra. Controllare. Già, siamo quasi perfetti. Abbassiamo il tiro di 3-4 cm. Ora io vado a occhio, ma volendo sono disponibile anche nel sito di Einpoint di TFC, i bersagli già impostati, che hanno già impostati con i vari click e le varie altezze. Quindi basta scaricarle e ti dirà, se spara a basso 10 caselline, ogni click a quante caselline ho risposto. E di norma è una casellina a 50 metri, un click a 50 metri e due a 100. Passiamo. Andiamo a vedere. Sempre da stare attenti al riscaldamento della canna. Andiamo a controllare. Ecco, il tiro è perfetto. Taratura abbastanza buona, 30 metri per il tiro e il cingale imbattuto. So far... poi so quando impresso he capitato... Taratura abbastanza buona, sparata, spessante.